Walt Disney Pictures è orgogliosa di presentare una nuova ed emozionante avventura. Protagonisti una bellissima principesse, un affascinante principe d'anocchio e un bacio magico. Vuoi entrare anche tu in questa indimenticabile favola? Questa è la grande occasione che stavi aspettando. Potresti diventare la voce di uno dei personaggi della storia, la piccola Charlotte. Collegati ad internet entro il 20 settembre e registra la tua voce su www.disneychannel.it Potresti diventare la voce di una delle stelle del nuovo film Disney, La principessa e il ranocchio. A Disney Channel!